Allora, io te lo devo proprio dire, inizio con questa cosa qua Quando mi immagino qualcuno che si è infiltrato nelle file nemiche Che fa una persona intelligente, con le informazioni giuste Che si infiltra nelle file nemiche per carpire informazioni Quindi diciamo una spia Io il Physique to Roll Penso che sia proprio il tuo Ammettilo, sei una spia ai Cogito Studios per carpire i segreti? Lo ammetto Lo ammetti? Minchia, speravo di un po' più di resistenza Tipo un test della verità No, mi scoprivi di chi però? Del Mossad, della CIA, del KGB Io pensavo tipo di Gioppizzi o Morte Bianca Se le spie si comprano, si possono ricomprare Carissimo, benvenuto ai Cogito Studios È molto bello verti qua È un piacere anche per me Anche perché abbiamo già fatto un paio di cose insieme Però è la prima volta che ci vediamo di persona Io sono sempre molto contento, cosa vuoi? Il privilegio di poter incontrare di persona Gente che fa un lavoro di cui ostima È una cosa molto bella Quindi sono proprio felice di essere qua con te E oggi parliamo La gente già si chiede in chat Di cosa parlerete? Possiamo dire una cosa? Cercheremo di non parlare soltanto dell'attualità Perché in fin dei conti Chiacchierando sono venute fuori tante passioni Anche comuni che possono essere afferenti ai temi di attualità Ma anche non solo Quindi insomma cercheremo di fare una bella chiacchierata Però non posso che partire da lì Com'è che ti è nata la... Il tarlo della geopolitica Dov'è che è arrivata questa cosa qua? Perché non è una roba da tutti Perché tu evidentemente hai cominciato Non come certi giornalisti Ben prima che ci fosse l'esplosione degli eventi in Ucraina Dov'è che ti è partita questa cosa? Ma guarda Io ho avuto la fortuna Credo di individuare quello che mi interessava In giovane età Ok 9-10 anni Questa cosa l'ho raccontata in alcune live Diciamo un po' private Tra la mia utenza Dove raccontavo che uno zio Semplicemente mi regalò un set di libri Degli anni 70 Che si chiamava Big Set Della Emanuele Albertello Editori Che erano cose tipo Gestapo Pennemund Ivo Gima Tarawa E cose del genere E da lì non ho smesso Ok E quindi è stato un regalo? Sì Ho abbandonato Zio Paperone Topolino E ti sei spostato su A che età? 9-10 anni Quindi tu a 9-10 anni Hai cominciato ad appassionarti di cose legate Comunque a storia Storia militare Strategica Geopolitica E queste cose qua Sì erano libri per adulti già Eh certo 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 È interessante Cioè nel senso A fin dei conti Anch'io un po' per caso Ho cominciato a leggere filosofia presto Però a differenza Di quello che facevi tu Io non ci ho capito un cazzo Ancora oggi magari Non ci capisco un cazzo Invece tu ti occupi di cose Un po' più tecniche E poi hai fatto degli studi Inerenti questo quindi Sì Poi sono andato a Bologna Ho fatto il percorso di studi Alle superiori Ho fatto i liti Quindi mi occupi Ero sempre diviso tra Elettronica Computer Certo E questioni militari Quindi poi mi sono trovato Diciamo In una congiunzione astrale Dove tra aver lavorato Come game designer E voler fare Un canale youtube Avendo fatto studi di storia Diciamo che Sapendo fare certe cose Compreso un po' di video editing Se voi la racconto meglio Eh beh sì sì A un certo punto Licenziarono quello che faceva I teaser Nella software house Ok E dissi ora a me Se volevo prendere il suo posto Mi pagavano il corso Il software Queste cose Io accettai Per un paio di anni Ho fatto i loro teaser E poi È venuto il covid E lì mi sono reso conto Che l'idea Del canale youtube Che io volevo fare Di cui però Non avevo la tecnica Per farla come volevo farlo Io sai Con tutte le icone animate I campi di battaglia E queste cose qui Ora invece potevo farlo Sia dal punto di vista tecnico Che dal punto di vista Della ricerca E del resto E quindi ho deciso Ho preso Ho fatto proprio il pazzo Ho preso Mi sono licenziato E ho detto Io mi do due anni Per far funzionare questa cosa Ficata Il canale è andato Discretamente bene A un certo punto Era esploso Quando c'era L'estate scorsa Ah certo Cioè quella precedente Addirittura Perché avevo fatto Una serie di video Dei miti Della seconda guerra mondiale Io andai a dormire Mi svegliai La mattina letteralmente Con 1300 commenti Era un canale Che aveva 1800 utenti Passò a 7000 Dal giorno e la notte Ah certo Poi ho continuato così E poi ovviamente Questa guerra Mi ha dato l'occasione Insomma Per farmi conoscere Più che altro Ah sì 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 Sai da un punto di vista Io ogni tanto Quando penso a canali Che sono molto Tematici Come il tuo Devo ammetterlo Mi viene un po' di angoscia L'angoscia è legata Al fatto che A me è piaciuto Nel tempo Diversificare molto Anche gli argomenti Anche per il fatto Di avere molti ospiti E quindi Mi chiedo Come vivi tu Da un punto di vista Troppo personale Il fatto di avere Una visibilità Che è legata Intanto inevitabilmente A dei fatti Che sono anche tragici Però anche il fatto Di aver creato Questa aspettativa Dal pubblico Cioè Cosa che voglio dire Voglio dire che se Come penso tutti Speriamo Fra una settimana La guerra in Ucraina Finisce In qualche modo Le aspettative Del tuo pubblico Potrebbero in qualche modo Venire meno Certo Poi l'argomento Che tratti È molto vasto Però Come lo vivi Questo legame Con un tema Così forte Non me ne faccio Un crudo Cioè nel senso Non ho mai fatto Una ricerca Della popolarità Non era il mio scopo A me piace fare Quello che faccio Poi se è un riscontro Dall'altra parte Mi onorano Insomma Della loro presenza Evidentemente Il lavoro che faccio È ricambiato Ma non me ne faccio Un problema Non ho mai fatto Un titolo clickbait In vita mia No questo è vero Non ho mai chiesto Tanti dicono che sbaglio Non ho mai chiesto A qualcuno Di iscriversi al mio canale Forse sono l'unico Che non lo fa Qui Mi viene in mente Iotobi Perché Iotobi Diceva Io non ho mai messo pubblicità Mi sono mai fatto pagare E poi tutti per anni Hanno detto che mi pagavano Quindi tanto valeva La pena farlo lo stesso Almeno Insomma sarebbe stato vero Ecco Per dire Ultimamente VPN mi aveva contato Ok Io ho accettato E poi vi confesso Ho deciso di non farlo Di non farlo Non mi pare Inserire una pubblicità In mezzo a queste discussioni Posso essere anche d'accordo Io infatti Quando parlo di cose Come la guerra Eccetera eccetera Non infilo mai Gli spazi pubblicitari Perché credo Condivido abbastanza Poi noi cosa vuoi Facendo comunque Una cosa molto generalista E quando parliamo anche Tipo ieri della rolling Sì Cioè nel senso C'è in quell'argomento lì Però quando si tratta Di argomenti molto Lo facevo anche con il green pass Per esempio Con le tematiche legate a pandemia Che io ho fatto qualche video Per quanto non specialistico Ma più che altro Sul dibattito pubblico Quindi condivido questo sentimento Quindi condivido questo sentimento Poi dall'altra parte Noi abbiamo un paio di sponsor storici Con cui abbiamo una buona relazione Che ci hanno permesso Di tirare su le cose Quindi io non sono mai stato A sfavore di Però sono d'accordo Su quel tipo di attenzione Ma sai cos'è? Era la modalità Cioè dover farlo spottino Se metto il logo È una cosa Sta lì Non dà fastidio Ma ti immagini Invitare un professore E io a un certo punto NordVPN NordVPN Avete problemi Di intercettazioni con i russi? Usate NordVPN No vabbè sì No capisco quello che intendi Lì credo che sia una cosa Molto personale Sì 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 Ci sta Ci sta Senti qua Allora intanto Io ringrazio Chi ci sta facendo l'onore Di essere in live Quindi come sapete Durante la cogitata Non leggeremo i commenti Però dopo la chiacchierata Ci sarà un momento Per rispondere a qualche domanda Quindi intanto Ciao a tutti Io non solo vi chiedo Di iscriverti Ma pure di abbonarvi al canale Quindi abbonatevi Perché sennò I Cogito Studios Diventano un ponte Molto velocemente Ma tornando a bomba Al discorso Di oggi Ovviamente la prima domanda Che ti faccio è Come stanno andando le cose? In questi giorni Stanno succedendo Dei cambiamenti Anche sulle aspettative Perché insomma C'è stata questa offensiva russa Che sembrava Dover soverchiare tutto Mi sembra che non stia Soverchiando tutto Come sta andando In questi giorni? Ma allora c'è Un problema un po' Sui nostri media Cioè La raccontiamo noi Questa offensiva I russi non l'hanno ancora Dichiarata Certo Hanno raccontato la guerra Un anno dopo Immagino che Ci arrivano un po' dopo Ecco Le offensive si fanno Non si dichiarano In realtà Potremmo già assistere L'offensiva Nel senso che Non è detto Che i russi Abbiano intenzione Di fare delle Offensive rischiose Magari Magari semplicemente Vogliono mantenere La pressione Dietro Bakmo Dietro Solidarano Anche varie riserve Anche a Cremina Svatovo Magari semplicemente Vogliono continuare A fare Esattamente come stanno Facendo In modo molto Conservativo Perché l'ultima volta Che si erano esposti Poi avevano subito Il contraccolpo Possono continuare così Senza fare qualcosa Che poi Se finisce male Non c'hai più riserve Certo Quindi tecnicamente Già potrebbe essere Questa l'offensiva O magari aspettano Il momento buono Dove immettere Queste riserve Quindi improvvisamente Si può passare Da una fase lenta Come questa Progressiva Molto da dottrina russa Parlato i russi A livello dottrinale Testano tutta La linea di contatto Trovano il punto cedevole Poi lì Mettono le riserve Oppure semplicemente Stare fermi Così Magari riuscire A prendere Bakmo Anche se magari Ci metteranno Altre settimane Un mese E poi Aspettare La controffensiva Ucraina Perché Una cosa Che viene detta Molto poco E che in questa fase Mentre i russi Hanno l'iniziativa In quasi tutto il fronte Intanto Creano anche linee difensive Nello stesso tempo Certo In continuazione Da tutte le parti Quindi Fanno una cosa Offensiva E una difensiva Tutto in parallelo Secondo me Si sono bruciati molto Ha scottato Le sconfitte Della fuga Da Kerson Eh certo Te l'ha tirata Kupianskizium E ora Prendono le cose Molto lentamente Certo Hanno il tempo Anche E i numeri Dalla loro Dal punto di vista Proprio di Massa E questo credo Che lo mettano Sul conto Sì Oddio Si parla Si parla del milione Di uomini Sì Tecnicamente Ci possono arrivare Ma non sul campo Ok Cioè da quello Che siamo riusciti A capire In questo anno Di guerra È che i russi Bene o male Possono tenere Tre quattrocentomila Uomini Sulla linea del fronte E neanche tutti Realmente In combattimento Cioè quasi la metà Di questi Sta dietro Ok E fanno ricambio Diciamo Delle unità Quindi anche se Riuscissero a mobilitare Tanti uomini Più di Centocinquanta Duecentomila In azione Cioè che hanno bisogno Di munizionamento Di bende Di medici Non riescono a mantenere Certo E quindi ha anche senso Il fatto che abbiano Ridotto La linea di contatto E le zone dove agiscono Perché è quello Che possono gestire Certamente Certamente E quindi sono stati scottati Diciamo così Delle controffessive ucraine Non se le aspettavano Adesso Una delle domande Che emerge È La futura controffessiva ucraina Adesso Sono arrivati O stanno comunque arrivando I rifornimenti Dal punto di vista Di armamenti Abbiamo visto I Leopold Come a me è capitato Di leggere Sai questa cosa È venuta fuori Durante un feed Io lessi un articolo E non so perché Ma il mio cervello Ha trasformato Leopard In Leopold E mi sono immaginato Matteo Renzi Su un cano armato Andiamo Andiamo contro i russi Perché il Leopold Leopold Il Leopold Esatto Esatto Quindi Mi ha fatto tanto ridere Questa cosa Però Stanno arrivando Questi Leopard Anzi sono già arrivati Almeno in parte Se non sbaglio Non sono ancora arrivati Avevo letto un articolo Che diceva Arriveranno Più o meno a maggio Ah ok Ok Quindi in realtà Quello che succede È che gli ucraini Sono in addestramento Ah in addestramento In Polonia In Polonia Ok Forse è quello E quindi Questo dovrebbe Dare la possibilità All'Ucraina Di preparare Una futura Controffensiva I numeri sono ancora piccoli Ok Si tentava di mediare La vista Insomma Tutte le diatribe Fra Polonia Germania Su Mandare questi cari Di fare almeno due battaglioni Ok In realtà Se ne riesce a fare Uno scarso Un battaglione Non cambia la guerra Ed è anche poco Per fare una controffensiva Quindi anche Le stesse americane Le hanno detto Aspettate Evidentemente Deve montare Di più l'aiuto Perché un conto Sono le dichiarazioni Dei politici No Abbiamo visto Ad esempio Ultimamente La Spagna Aveva detto Sì Noi ci stiamo Fino a due settimane fa Ne mandiamo 56 Ora sono diventati 4 Slash 6 Un numero un po' diverso Un conto è ciò che dichiarano I politici Un conto è quello che Poi i militari Dicono Aspetta Noi siamo in grado Di mandarne Tot In tot tempo Perché alcune macchine Vanno sistemate Non sono immediatamente Utilizzabili In più ci vuole L'addestramento Puoi ridurlo All'osso Però questo riduce Anche le loro capacità Sì assolutamente Poi c'è il discorso Dei jet Ha visto ultimamente Parlamento europeo Eh sul discorso jet Perché sai Allora io lì Devo ammetterlo Sono un po' combattuto Io mi rendo conto Che la fornitura di jet Potrebbe mettere Molto a repentaglio Il discorso Dello spazio aereo Che nell'ambito di Un'escalation Molto veloce Del conflitto Probabilmente Accelera Quel tipo di rischio Come la vedi tu Perché io Evidentemente Non sono un esperto Quindi dalle cose Che ho letto Le poche cose Che ho letto E sentito Essere contro La fornitura di jet Da parte di una parte Dell'opinione pubblica Americana Potrebbe avere le sue ragioni Tu come la pensi A riguardo Anche tedesca Hanno fatto un soldato Recentemente 65% Anche in Germania Non credo Ci sia molta differenza Fra i jet E i carri armati In questo senso Dipende di chi sono E quello è il problema Cioè Jet nostri Cioè della Nato Intervento Nato Spesso si parlava Sai del Blocare i cieli In Ucraina In realtà non è Tecnicamente possibile Perché immaginiamoci Un intervento Nato Reale Dove l'Ucraina Legittimamente dice Io voglio che nessuno Voli nei miei cieli A meno che non sia autorizzato La Nato Pensiamo a noi Questo significa Prima una guerra diretta Nato Russia Secondo Gli aerei Nato Tecnicamente Non potrebbero colpire I sistemi anti-aerei Russi In Russia Che sono sul confine Perché se no sarebbe A gridire loro Certo Quindi diventerebbero Praticamente un tiro al piccione Ok È infattibile L'altro discorso è Volare questi aerei Soprattutto di tipo diverso Ultimamente la Svezia Forse ha detto Che manda i Gripen Accetta forse la richiesta Degli ucraini Forse gli F-16 Sappiamo che gli ucraini Sono in addestramento Quanto meno per lì a 10 In America Richiede almeno un anno Ad estrarre E una certa logistica Certa capacità Ultimamente Ho letto un'intervista Di un pilota ucraino Call name Juice Che diceva La maggior parte Dei nostri piloti Buoni è morta Sono rimasti quelli Di seconda linea Che questi aerei qui Neanche li conoscono Certo In più vanno smontati Anche di un po' Di tecnologia nostra Con il rischio Di reverse engineering Lo stesso motivo Degli Abrams Perché gli americani Mandano gli Abrams Così lontano Ne hanno 10.000 Non potrebbero prendere 31 E consegnarli subito No Quelli che verranno a produrre Perché probabilmente La versione che verrà mandata Sarà la versione Bastardizzata Cioè toglieranno Parti di elettronica Che probabilmente Temono che finisca I mani russi Certamente Eh sono cose Sai su questo Io ho cominciato a seguire Il tuo lavoro Perché ho trovato Nelle analisi Che tu fai Dei punti molto tecnici Molto pragmatici Che nell'opinione pubblica Anche quella Divulgata Da mezzi di informazione Che parlano di geopolitica Da anni Non si trova Ovviamente Mi riferisco In primo luogo Nessun problema L'IMES Ok Io ho stato abbonato L'IMES Per un po' di tempo Io oggi non ho più L'abbonamento L'IMES Da un po' di tempo Perché mi sono reso conto Di quanto L'approccio Alla geopolitica A questi fenomeni Sia tutt'altro Che pragmatico Perché se tu oggi Prendi un articolo Di l'IMES E lo leggi Ti rendi conto Che l'atteggiamento Dominante In certe analisi È quello Egeliano Del tipo Ci sono le nazioni I popoli È come se si parlasse Dello spirito Di un popolo Che vuole andare In una direzione Dal mio punto di vista Anche ascoltando te E anche insomma Leggendo un po' Di analisi Anche l'Economist Che alcuni commentatori Che io apprezzo molto E varie altre analisi Mi sono reso conto Che invece questi sono Cioè i fenomeni Che ci vengono venduti Come fenomeni Quasi ontologici Metafisici Hanno delle problematiche Che sono molto Molto pratiche E allora mi chiedo Certamente una delle risposte È più complesso Raccontarla così Però dall'altra parte Perché tante persone Che avrebbero Le informazioni Avrebbero le fonti Non fanno Quello che fai tu Cioè per esempio Poi insomma Se vuoi farci Spiegarci un po' Pragmaticamente Come si legge La cartina che abbiamo lì Poi la facciamo vedere Sarebbe molto utile Per il pubblico Però Perché non si ha un approccio Perché questo approccio Perché è un approccio Che ti fa capire meglio le cose Cioè quello che tu mi hai spiegato adesso Sull'addestramento Dei jet E via dicendo Mi ha già chiarito molto di più Rispetto alle difficoltà Che ci sono nell'invio di jet Poi è evidente Che ci sono anche Delle problematiche Ideologiche Anche delle paure emotive Però non dovrebbero Rientrare come primo fattore Di analisi Il primo fattore È quello che dicevi tu Difficoltà di addestramento Di fornitura Le diverse prospettive Cose pratiche Cose pratiche Perché poi quello è la strategia militare Sono cose molto pratiche Cioè il senso Metallo Come direbbe Come direbbe Avrebbe detto Richard Benson Metallo Credo che Bisognerebbe accordarsi Di cosa si occupa La geopolitica Nel senso che Strettamente Non si occupa Delle questioni militari Se non come Un qualcosa da considerare Quando accade Ok Quindi Nella mia esperienza Quasi tutti gli analisti Di geopolitica Non sono molto avvezzi Alla conoscenza tecnica O dei mezzi O delle dottrine O come funzionano Gli eserciti Si perde un po' Nella Weltanschauung Come funzionano I popoli Esatto Quell'eghelismo Un po' Riducendo a volte Anche la geopolitica Alla comparazione Col singolo essere umano Certo Io rubo qualche frase A Dario Fabri Dove dice Un paese Funziona Esattamente Cioè ci si aspetta Che funzioni Come un essere umano Nel senso che sia Cordiale Simpatico Capi delle caratteristiche Capi una personalità Una personalità Che va bene Fino a un certo punto Però poi Ci si deve rendere conto Che la geopolitica Secondo me Si eleva C'è un po' Di autoreferenzialità Nel senso che Se uno deve fare Una scaletta Di tutti i layer Che compongono Gli strati Che compongono Questa storia Ci si rende conto Che la geopolitica Sta in alto Poi c'è la politica Poi ci sono i militari Poi c'è la strategia La tattica Le dottrine Il modus operandi Certo Ecco E quindi Sentendosi in cima Non si occupano Degli strati intermedi Rimangono sempre In quella fascia Molto alta Che va a occuparsi Di conferenze Internazionali Di quello Che potrebbe pensare Putin O di quello Che si cerca Di capire Che sia L'anima Di un popolo Perché i russi Temono l'accerchiamento Il fatto che vivono In questa pianura Ma anche i polacchi Lo dico Essendo mezzo polacco I polacchi temono Storicamente Tutti i loro vicini Perché vivono In una pianura E vivono con dei vicini Abbastanza ingombranti Storicamente Gli hanno fatto Sempre Dei dispettucoli Ecco C'è un pezzo mio Che dovrà uscire Sull'IMES Che parla proprio Del riarmo polacco Se i polacchi si riarmano Non è che sia una cosa Che esce così Certo Questa situazione Ha accelerato E magari Ne approfittano anche C'è una ragione storica Austria Prussia E Russia Si sono divisi Alla Polonia Che era scomparsa Per 123 anni Certo Ecco Ci sono popoli Che hanno più memoria storica Magari per gli italiani È un po' più difficile Cogliere questa cosa Qui rubò la battuta Di Montanelli Che parlando con Su vecchio amico E Contribuente Diciamo Ugo Yeti Disse Ma te non hai capito Gli italiani sono Un popolo di contemporanei Poiché senza storia Né memoria E su questo aveva ragione Ah si sono d'accordo Lui disse L'avevo presa come una buttata Invece poi mi accorsi Nel tempo che aveva ragione Quindi forse per noi È anche un po' difficile Capire che ci sono Dei popoli Che vivono la loro storia E anche la loro posizione Nella storia Anche quella che verrà In maniera molto differente I russi questo Ce l'hanno Si considerano Un grande popolo E per loro Non venire accettati O hanno verrati Dalle grandi potenze Qualcosa che proprio Non riescono a vivere E questo è molto Instillato in Putin Facci caso Hai mai sentito Un capo di stato italiano Fare riferimenti Che so A Lissa A Mentana O a Momenti storici Dell'Italia Poco Pochissimo Pochissimo Se senti Duda Se senti Putin Riferimenti storici Continui Come se non finisse mai È vero È vero Quindi hanno bene Questo è anche legato Questo lo si vede Io Cosa vuoi Dalla mia Informazione professionale Per esempio Se tu prendi I filosofi russi In Russia Vige lo storicismo Cioè in Russia La filosofia Che nelle università È più radicato È proprio lo storicismo Ovvero leggere Comunque Quella cosa che Nietzsche Denunciava Il fatto di leggere La contemporaneità Come quasi il determinato Frutto di una serie Di concatenamenti storici Di stampo metafisico Pruramente metafisico Quindi non tanto La storia vissuta Ma quanto la storia Dei concetti Che vanno Delle ideologie Che si vanno a A concatenare Che poi producono L'atteggiamento di oggi Ora io Cosa vuoi Dostoevsky venne vietato Eh sì Per un periodo Perché dava noia Perché parlava di queste cose Esattamente Il punto essenziale Questo Perché io sono d'accordo Che ci vuole Anzi Di nuovo Deformazione filosofica È bene fare come Carl Schmitt Parlare dello spirito Dei popoli Del movimento Della storia Va bene Ok Perché è il lato più Diciamo così Emergente Di questa comprensione Di una sorta di stratificazione Molto Più umanistico Più umanistico Anche esatto Però è molto bene Dire anche Guardate che non è mica L'unica prospettiva Cioè il punto Secondo la mia prospettiva Che è più problematico È che ci sono persone Che parlano dei massimi sistemi Letteralmente E poi non ti dicono Che ci sono anche i minimi sistemi E i sistemi mediani E che tutte queste cose Si vanno a E che se tu punti l'attenzione Solo su quello Capisci un cazzo Cioè nel senso Non capisci nulla Si perdono un po' Nel senso Secondo me la geopolitica Senza integrarla Letteralmente Con l'analisi militare Le dottrine La conoscenza Proprio profonda Della strategia Della tattica Si perde un po' Perché poi quando si arriva Sul pratico Avviene una guerra Tutte queste teorie Che qualcuno fa Per vent'anni Poi si sciolgono Ti perdi per strada Al sole Del conflitto stesso Ti perdi per strada E quindi Credo che sia fondamentale Allora vogliamo Vogliamo un attimo Vedere Perché allora Il nostro pubblico Magari Anzi Ti conoscono sicuramente Però magari qualcuno Non ha mai visto Un tuo video Ora i video di Mirko Secondo me sono importanti Perché lui prende le cartine Prende le cartine Mostra i confini È una roba che io Non ho mai visto fare A nessuno in televisione Via dicendo E quindi Per esempio Questa cartina qua Che stiamo vedendo Che è sulla crisi Ucraina Dal 2014 Al Qui vediamo il confine Di combattimenti Fondamentalmente Sì È la linea di contatto Al momento Fra praticamente Russi E Ucraini Nella zona di Bakhmut Solidar Seguendo Spesso ci chiedono Come fai ad avere Tutte queste iconcine A sapere dove sono Non sono da solo Sono 40 persone Che collaborano Con me Alcuni sono contatti Russi Ucraini Asperti anche Di questioni militari Anche perché Sul mio blog Ci scrivono Anche Professori Ultimamente Abbiamo un articolo Di Jeremy Black Che è uno dei maggiori storici Al mondo Ci ha fatto un articolo E ci ha dato L'onore Di poterlo pubblicare Sia in inglese Che in italiano Ultimamente ha scritto Anche Cristadoro Che ha scritto Un libro sulla Siria Che si occupa Della Wagner Sul fattore tecnico Sai io Mi sono interrogato All'inizio di questa guerra Come riuscirci a capire qualcosa E mi sono un po' inventato Il metodo Certo Perché volevo capire io La questione Poi mi sono reso conto Che questa cosa aveva Non dico una commerciabilità Ma aveva un interesse Poteva essere interessante Anche per gli altri Io l'avrei fatto comunque Per me stesso Allora ci siamo armati Cos'è il genio Intuizione Capacità Ecco E allora Abbiamo cercato di capire Come possiamo Riuscire a ricostruire Le posizioni E lì Tra video Immagini Già localizzate Che poi devi studiare A mano Tentare anche Di fare degli algoritmi Che possono riconoscere La silhouette Di certe strutture Rispetto alla mappa Di Google Eccetera Con dei tecnici Che mi aiutano E che ringrazio Siamo riusciti A mettere su questo server In realtà ce ne sono tre C'è uno test C'è quello pubblico Poi c'è Quello della mappa Dove praticamente Tutto quello che vedete Su schermo È lì davvero Ok Nel senso che Se tu mi chiedi Perché c'è quella Particolare unità In quel posto Io ti posso dare le prove Filmati Video geolocalizzati Che dicono Che sono lì A volte ci arrivi Scusa Per una Una mostrina A volte per il tipo Di avramato Cioè devi avere un know-how Che va oltre Al semplice Deve aver studiato Cioè se sono una cosa Che fai da un giorno all'altro Al semplice video o foto Devi sapere cosa stai guardando E cosa stai cercando Certamente Però non ho mai capito Perché in Italia Questa cosa Forse perché c'è un po' di tabù Sulle questioni militari Storicamente Deve essere di destra Esatto Beh questo non c'è alcun dubbio O non c'è alcun dubbio Poi su questo ci torniamo Perché è un argomento Anche culturalmente Molto pregnante Però sicuramente Poi c'è anche il fatto Che di nuovo Per capire Una cartina del genere Io credo che anche L'ascoltatore debba avere Un minimo di consapevolezza E io mi sono accorto di questo Purtroppo noi siamo Un paese Di nuovo parlo di spirito dei popoli Ok no Non è spirito dei popoli Però siamo un paese Che ci ha abituati Anche l'informazione Come intrattenimento E quindi C'è un grado di difficoltà in più Nel dire Allo spettatore Nel selezionare Lo spettatore A cui dici Guarda che Per seguire la mia live Ti serve un minimo Di consapevolezza E proprio che se ascolti Questa roba qua Non ci capirai un cazzo Se l'ascolti E non ci capisci un cazzo Studia Quello che ti indico Ok Questa roba qua Noi l'abbiamo disabituato Perché qui In Italia abbiamo avuto La divulgazione A una carlona Fatta da tanti personaggi Anche molto Molto Portati in palmo di mano Che però Ci hanno sempre dato Una divulgazione Che ti fa sentire a posto Ok Che non ti Fa sentire ignorante La buona divulgazione Io lo dico sempre Ti fa sentire ignorante Cioè Ti divulgo Ti do un'informazione Tu magari capisci Il 15% E dici Cazzo mi resta tutto Il resto Dell'85% Se non hai il guizzo Di andare poi te Ad approfondire Io ho parlato di disclaimer Appena uno entra nel mio canale Il primo video che senti È la presentazione Che dice Questo non è un canale Di pillole di storia E certo Quindi se pensavi di trovare La seconda guerra mondiale In 5 minuti Scordato Certamente Assolutamente Ragionare su questa cartina Significa Quanto meno Conoscere un po' di simbologia Certo Io poi Lo spiego In molte live Fornisco tutte le fonti Sotto proprio Per dire Se non vi piace la mia lettura Che comunque è una lettura Con limite Delle mie capacità cognitive Fatevene una vostra Pochissimi Fanno questo lavoro Di fornire tutte le fonti O di rispondere direttamente Io rispondo Lo so Te mi dicevano Ancavolata Ma io rispondo Su Telegram Spesso sono in discussione Sì tu sei matto Tu sei matto Non è il caso di farlo Però capisco È la parte che mi piace Anche il confronto Perché poi Le persone che sono Nel mio think tank Vengono della community Certo Certo Quindi E anche diciamo Fare anche un po' talent scouting No Credo che sia anche stimolante Sì assolutamente La stimologia serve Eh sì Due crocette Una divisione Una crocetta Una brigata Tre stanghette Un reggimento Due Un battaglione Però anche se uno Non avesse Nessuna Conizione di quello Che sta guardando Fosse mia madre Io uso mia madre Come test Comunque vedi dove sono i russi Vedi dove sono gli ucraini E vedi nel tempo Chi avanza E chi indietreggia A livello più rudimentale Possibile Però magari Ti tira fuori Quell'interesse Sai quali sono le mail Che mi piacciono di più Mail di ragazzi Che mi dicono Guarda Grazie a te Sono andato Ho preso la traccia Di storia È fondamentale Questo Sto facendo la tesi Cioè qualcuno mi ha chiesto Addirittura Di potermi intervistare Per la sua tesi Certo Che è un onore Per carità Mi capitano queste cose E sono queste le cose Che ti portano Che ti mandano avanti Sì 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 Perché è quello che dicevo Cioè nel senso Se tu hai un atteggiamento corretto La divulgazione Ti fa sentire ignorante Ma non nel senso Che non ti dà le informazioni Ti dà le informazioni Ma avere quelle informazioni Significa Non sdraiarti sugli allori E dire Minchia ho ancora un sacco Di roba da sapere Ed è questo che Secondo me fa Del tuo canale Un qualcosa di importante Peraltro io Scusa ne approfitto Lancio l'appello pubblico Io a Roma Ho incontrato una ragazza Che mi ha detto Che ha fatto la tesi Di magistrale Su Daily Cogito Per favore Mandamela Te l'ho già detto su Instagram Mandamela per piacere Perché sono mesi Che l'ho incontrata Quindi mandamela Grazie Detto questo È importante Quindi la voglio leggere Per far piacere Però ci sono cose Che fanno piacere Perché quando tu ti rendi Conto che L'atto di divulgazione Ha scatenato La consapevolezza Dell'ignoranza Che non è una cosa Di cui vergognarsi Perché è quello Il problema secondo me Di cose come Quelle che fai tu Di cose più approfondite Che ti fanno sentire Ignorante E noi abbiamo Un enorme problema Con questa cosa Perché non ci piace Sai spesso mi chiedono Tipo ultimamente Ho invitato Un colonnello Tenente colonnello Perché ci tengono Molto ai gradi A parlare Della sua esperienza Su Li A129 Manguste Che sono gli elicotteri Italiani E mi hanno detto Hai parlato pochissimo E di cosa devo parlare C'ero io su quell'elicottero Volevo sentire La sua di esperienza Certamente Certamente E quella Io le live Le faccio anche per me Eh beh Ci mancherebbe Soprattutto quando invito Ospiti Come generali Perché sono informazioni Che acquisisco Loro hanno Un'esperienza operativa Reale Io ne ho una Diciamo Da studioso Da dottrinale E quindi Integro Io sono un po' Come una spugna Cerco di assorbire Tutte le informazioni Possibili Quindi alcune live Sono quasi ospite Di me stesso Che le faccio Perché mi piace Perché mi piace Avere la persona Su questo Credo che ci sia Una pura concordanza C'è un video Del tipo 2018 17 In cui Un video In cui Io non lo faccio per voi Io lo faccio per me E se lo faccio per me Qualsiasi cosa Forse può portare Un valore anche a te Cioè se sono io A imparare qualcosa Da quello che divulgo Da quello che leggo Per fare il video Allora Potrebbe essere utile per te Se io invece faccio Il bignamino In cui ti dico Cose che già ho imparato E non sono aperto A un minimo di autocritica E di quindi Apprendimento È probabile Che magari ti farò sentire A posto con te stesso Ah Ho capito tutto E poi sfoggiare E poi sfoggiare Esatto Fare la citazione Filosofica al pub No in realtà Io voglio farti sentire Ignorante Credo che in un ambito Come quello Peraltro Perché io mi occupo Di filosofia Filosofia È facile far sentire Ignorante le persone Perché posso prendere Tutte le citazioni E via dicendo In un ambito Come quello Dell'attualità È fastidioso Far sentire ignorante La persona E questo è un grado Di difficoltà Secondo me Ulteriore Del lavoro Che fai tu Perché Nella Attualità Noi ci rendiamo conto Se ci sentiamo ignoranti Quanto poco controllo Abbiamo sulla realtà Da fastidio Da fastidio Ti fa sentire I tuoi limiti E ti fa capire Quanto debba ancora Tu studiare E faticare Per riuscire ad arrivare Non a un perfetto controllo Ma almeno A un controllo Di alcune variabili Che ti permette di dire Adesso questa cosa qua L'ho capita un po' meglio Ma è quel fastidio Che mi ha cominciato A fare questo Ce l'avevo io E ho detto Ok Armiamoci E vediamo di capirci qualcosa Armiamoci E divulghiamo Non lo faceva nessuno Ho detto Cerchiamo di trovare Dei metodi Per arrivare Più o meno A avvicinarsi Insomma Alla verità Di quello Che succede Non sarà mai Il 100% Anche perché È un ongoing Nel senso Non può essere il 100% È un processo continuo È un processo continuo Non c'è nulla da fare Quello che tu Apprendi adesso Di questa cartina Domani non varrà più Infatti ci sarà lo storico Stiamo lavorando Per avere lo storico Perché tutti i movimenti Che ci sono Poi ci sarà Dal giorno 1 Quindi uno vede Ma perché ci dobbiamo Scrivere i libri E anche altri Vorranno scrivere i libri Quindi noi abbiamo Tutte le informazioni Sai che da un certo punto di vista Adesso guardando Questo confine La cosa che mi sale È il fatto di Quanto mi sento distante Fisicamente Da questo aspetto Quanto E pur vicino E pur vicino Io la prendo Alla larga Ok Ogni volta In cui mi è capitato Di parlare del conflitto O con ospiti O anche in autonomia Cercando sempre Di star lontano Dalle cose tecniche Ma più che altro Ragionandoci Dal mio punto di vista Ok Ho ricevuto sempre commenti Di gente che mi fa Eh ma baci tu allora Ok Allora questo è un commento Detestabile Sì è detestabile Ok È terribile Ha un piccolo Non dico fondo di verità Però ha una ragione D'essere Il fatto che noi siamo Veramente distanti Da quello che avviene Ed è per questo che Dicevo all'inizio Sì Cioè nel senso Io quando penso Se io dovessi parlare Ogni giorno di questa roba qua Pur con tutte le conoscenze Però sarebbe Sarebbe pesante Credo che sia Comunque un peso Per quanto poi Porti curiosità Via dicendo Perché Perché non puoi Non rimarcare la distanza Del fatto di produrre Un discorso culturale Ben impostato Via dicendo Quando lì ci sono le cose Che veramente nessuno di noi Vorrebbe mai vivere Sulla propria pelle Ogni tanto lo ricordiamo Ricordiamo Quando È importante Sì Perché io leggo I commenti li leggo Io ho questo vizio Mi toccano sempre di meno Grazie a quella cosa Che ci siamo detti Ah quindi è stata utile Quel discorso in live Molto utile Molto bene Però Quando leggo Ah meno male Hanno distrutto Questi battaglioni russi Vi ricordo che sono tutti Tutti esseri umani Tutti esseri umani Tutti ragazzi La maggior parte Probabilmente non vogliono Essere lì Infatti mi fa molto piacere Quando parliamo Con il generale Capitini Di queste cose E paradossalmente La live di cui vado Più fiero Non ha praticamente Attinenza Alle questioni militari Ma è quando ho invitato Paolo Onori E Massimo Vassallo Per fare una live Sulla cultura russa E di vari autori Ucraini Per andare contro Diciamo La russofobia Ah sì È la live più alta Che ho fatto Dove ero molto spettatore Perché ero proprio Ce l'avevo nel cuore Perché io mi ricordo Quando ho visto Il suo Accuorato Appello Dove piangeva Quando gli avevano Tolto Il corso Certo Quella è la live Che per me rimane nel cuore È fondamentale È fondamentale Avere avuto l'onore Di avere Paolo Onori A parlare di queste cose Per me era come Avere davanti il maestro Che poi Ce l'avevamo avuto in studio Noi pochi mesi Prima dello scopio della guerra Perché era tipo Cosa era? Fede settembre Ottobre 2021 Lui è venuto Era inizio seconda stagione Inizio seconda stagione E quindi dopo tre mesi È scoppiata la guerra Effettivamente E infatti Quello è stato Molto interessante Perché quando poi Emersi il discorso Di attualità Io feci un video Dicendo Ma non ha senso Cancellare Dostoevsky E un sacco di gente Sento un po' più pragmatico Comprendi che ha un senso Molto preciso Il fatto di non far suonare La filarmonica di Mosca A Vienna O non far gareggiare L'atleta di ciclismo Di tennis In Germania O agli US Open È molto diverso Rispetto invece al dire Io i libri di Tolstoi E Dostoevsky Non li metto più In vendita Li tolgo dai corsi universitari E avere la capacità A discernere fra questi aspetti È fondamentale Per capire questi fenomeni Non ce la si fa E di nuovo Secondo me Quella è la conseguenza Dell'atteggiamento Che io definirei Olistico Intorno ai fenomeni del mondo Aveva ragione Cerci Gli italiani Vivono le guerre Come partite di calcio E partite di calcio Come guerre Lo vedo C'è una dicotomia totale Tra quello che succede Il pensiero E anche la polarizzazione Del pensiero Di questa utenza Non vuole sentire ragioni Su queste storie E non c'è verso Di farle capire Che un conto È la cultura di un popolo Un conto sono i governi È vero che c'è un po' Anche di cultura Di quel popolo Che poi Si può completamente Estraniare La responsabilità Di un popolo Dalla classe dirigente Che ha fatto emergere Ma neanche Dargli tutta la colpa Sai Io ho questa idea Anche lì È molto complicata Però cerco di porla così Quando tu prendi Le masse Ha a che fare Con un dato statistico Non con un dato morale La morale Tu la puoi giocare Sugli individui Al massimo Sui piccoli gruppi Non sulla massa Non sulla massa Perché c'è un bellissimo libro Che io adoro Che è anche qua In mezzo Da qualche parte Che è Massa e potere Di Elias Canetti E Massa e potere È un libro straordinario Perché a parte In mezzo a tutti In mezzo a tutti i ragionamenti Lui è stato Un grandissimo genio Sottovalutatissimo Autotafe È ancora oggi Uno dei miei romanzi preferiti Incredibile Ve lo consiglio So che è poco conosciuto Non studiato all'università Però In Massa e potere Lui in mezzo a tutte le cose intelligenti Che dice Dice a un certo punto Guardate che C'è una differenza Non di grado Fra l'individuo E la massa C'è una differenza Di natura Cioè sono due eventi Del mondo Completamente diversi E bisogna approcciare A questi eventi Del mondo Con categorie diverse Se tu prendi E all'individuo Puoi dare responsabilità Non significa Che tu possa dare responsabilità A una massa L'individuo Nella massa scompare Scompare Si trasforma E non lo vedi più E lo possiamo vedere Posso dire che lo possiamo Anche vedere In nostra vita Quante volte può capitarci Di essere Io sono stato in manifestazioni Per esempio Quando ero studente Contro la guerra in Iraq E io Quando ricordo Il me stesso In quella Ovviamente con tutta l'esperienza Del senno di poi Che quindi Distorce Però io Non ero me stesso In quei casi lì Posso riconoscere Razionalmente Le idee Che mi hanno portato In quel gruppo Ma quando poi Ero lì in mezzo Era molto È molto difficile Dire quello era Riccardo Dalferro Lo stesso che poi Andava all'università Faceva questo Guarda in questo C'è una domanda Molto interessante Che si era posto Jordan Peterson Poi è un tipo Un po' strano Però ogni tanto Io lo seguo Soprattutto su queste Teorie Dove fa la domanda E dice Se tu fossi Nella seconda guerra mondiale Seressi stato un nazista O no? Statisticamente Tutti dicono no Ma statisticamente La risposta è sì Certo È difficile da accettare È difficile È difficile È difficile È il motivo per cui Io Una cosa che ripeto sempre È Vuoi essere un individuo Veramente morale Quando ti svegli al mattino Guarda dove è Hitler Allo specchio Cioè Tutte quelle parti Che noi Riconosciamo come Riprovevoli Nella storia In realtà Sono di nuovo Meccanismi Molto più complessi Rispetto a come Ci vengono Venduti anche Dai nostri semplici istinti Dai nostri pregiudizi In realtà Essere coinvolto In qualcosa Significa Infatti Io Quando penso Ai cittadini russi C'ho l'istinto Di dire Eh no ma che cazzo Ma ribellatevi Ma brutti stronti Ma ribellatevi Poi mi fermo E dico Per fortuna Non sono in un contesto Del genere Perché c'è Il mio pregiudizio Su me stesso Che dice Ma io evidentemente Mi ribellerei Se fossi lì Lo farei sicuramente Poi però c'è il problema Di essere coinvolto In qualcosa In cui Quello che perderesti In caso di Ribellione Rivolta Sarebbe incalcolabile Rispetto alla situazione In cui ti trovi oggi Ho fatto degli esperimenti In questo senso Sì Sono entrato con Un racconto falso In una chat Di un Di un canale Di un mio amico Dove c'era una Io dicevo Con un altro nome Delle cose Venivo aggredito Da tutti quanti Poi entravo Come Parabellum E dicevo esattamente La stessa cosa Eh Bella questa Nessuno diceva un cazzo Oppure L'abbiamo fatta In una live Dove abbiamo letteralmente Sparato Una cavolata Fatta apposta Neanche gli altri Tutti storici Hanno detto Ma cosa state dicendo C'è questa cosa Io infatti Lo dico sempre Non fidatevi di quello Che vi dico Ci sono le fonti Se non vi piace La mia lettura Fatevene una vostra Utilizzate quella cosa Che avete tra le orecchie Non c'è grande volontà Di Rielaborare Quello che si subisce Soprattutto Io vedo Molto opinionismo Pochi fatti Cioè anche quelli Che si occupano Più o meno Di quello che faccio io In realtà Io vado a vedere Non sai mai Perché dicono Quello che dicono Cioè possono corroborare Con una conoscenza Della materia Con delle fonti Quello che dicono O è la loro opinione La loro lettura Di questa storia Ma basata solo Sulla loro opinione Eh sai Lì 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 è un tema Anche questo è un tema Molto Molto profondo Perché Per poter Dire A qualcuno Da dove arrivano Le tue opinioni Cioè quindi Riuscire a Corredare le proprie opinioni Da una serie di argomentazioni Si legga il mio libro Si legga il mio libro Esatto Tu devi avere Uno spirito autocritico Cioè Tu arrivi A poter Dire Io penso questo E lo penso per questi motivi Perché nel tempo Ogni volta in cui Hai trovato una convinzione Prima di abbracciarla Criticamente Hai detto Ma siamo veramente sicuri E in fin dei conti Questo è un po' Lo spirito Che dovrebbe guidare Anche proprio Ma non solo la filosofia Proprio la ricerca culturale Io penso questo Del mondo Ma siamo sicuri Che sia così E la prima cosa Che dovrei La tua convinzione Esatto E la prima cosa Che dovrei fare È per esempio Vagliare I pensieri opposti Io Quando ho sviluppato La mia concezione Antireligiosa Io sono un ateo Ma soprattutto Sono un antireligioso Anch'io grazie a Dio Perfetto Anch'io grazie a Dio Cheat La prima cosa Che ho fatto È rileggermi La Bibbia Rileggermi I Vangeli Leggermi I libri di Ratzinger E io ti dirò di più Grazie a queste letture Ho letto anche Jordan Peterson Grazie a queste letture Ho arricchito enormemente Range di persone Che si definiscono Libertarie Ok Quindi addirittura Anarchiche Anarchici Capitalisti Sto scherzando Però Cos'è il genere Quando ho detto Eh ragazzi Greenpass Si è scatenato Il pandemonio Ma perché Sono arrivato a dire Quella roba Wes No No Aspetta Questo ha fatto Questo ha fatto male Tra l'altro Scusami Prendo questa cosa qua Uno Nel video che ho fatto Sul Lebron L'altro giorno Mi ha detto Che la gente Che mi insulta Sotto quel video Fa bene insultarmi Come hanno insultato Wes E criticato Wes Nel suo video E io ho detto Pensa te E mettere sullo stesso piano Discorsi Che semplificano La guerra in Ucraina In cui ci sono tante persone Che muoiono innocentemente E un giocatore di basket Complimenti Però al netto di questo Poi mando un abbraccione Wes Lo saluto Il punto essenziale È che Quando ho fatto il video Sul Greenpass Io avevo delle ragioni Cioè nel senso Io sono arrivato A dare un'opinione Che Contrasterebbe Con l'aspettativa Del mio pubblico Perché le mie opinioni E mica ce l'opera Il mio pubblico Questo non lo capisco Cioè Noi Non produciamo qualcosa Poi Fortunatamente Credo che piaccia Quello che facciamo E quindi Ne abbiamo riscontro Ma noi che andiamo Esattamente A cercare di Parlare alla pancia Delle persone A me spesso Ultimamente mi dicono Sai ti vedo un po' Pessimista E beh Se le informazioni Sono cattive Si è per tutti I due lati Ci sono delle persone Che si stanno massacrando Io non è che posso Brillare O fare troppi Troppi scherzi Troppi Giochi Quindi anche Quello che succede Condiziona La mia narrativa E il modo In cui racconto Certamente Narrativa In un certo senso Come dice Jordan Peterson Anch'io devo Accettare Certe cose E rendermi conto Che hanno un impatto Anche su di me Ora io sono Una persona poco emotiva E quindi tendo Quello è il lavoro Quando stacco Stacco Molto bene E beh Che è un atteggiamento Molto sano Ogni tanto Ho degli utenti Che ho fatto saluto Che mi dicono Ogni tanto Volevano essere rincuorati Sul discorso del nucleare Ma te come fai A essere così calmo Sul discorso nucleare Rasoglio di Occa Ma non ci posso fare nulla Se non ci posso fare nulla È inutile che mi preoccupo Assunto il fatto Che quello che mi rimane Da vivere E quello che c'è ora Fino a L'evento Me lo godo Non sto a pensare Se succederà Certo Perché è sempre lì Percentuale bassissima Ma è sempre lì E quindi Vivo così Ci sono persone Che non riescono A fare questo E ovviamente Vivono male E cercano rassicurazioni Altrove Io non vorrei questo peso Ecco Rassicurazioni Su questioni Del genere Perché comunque Dare questo peso A uno semplicemente Che fa delle analisi È un po' troppo Però la futurologia È una roba Che va tanto di moda Cioè nel senso Sulla base Di quello Che è successo finora Senza dire Quanto riesci A ricostruire Quello che è successo finora Siamo sulla psicostoria Ma veramente Senza neanche specificare Il tuo pubblico Quanto sai Siamo prima Ora possiamo dirlo Quindi adesso Dovremmo prendere Una lampada Legarti alla sedia Dove sono le basi ribelli Parla parla Dove sono le basi ribelli Racconta Racconta Non a quei livelli Però insomma Alcune cose Di cui non si poteva parlare Le abbiamo avute Ecco E quindi Anche perché Per avere comunque Ospiti Militari Devi avere il benestare Anche perché adesso Non so Ovviamente Questa è proprio una cosa Che lancio lì Perché non ne so nulla Però questa è effettivamente La prima guerra grande Con i sistemi mediatici Come li stiamo vivendo adesso Qualcuno potrebbe fare Il paragono anche con il Vietnam E in realtà La comunicazione mass mediatica Adesso è onnipervasiva In un modo che lì Era incomparabile Io la verrei anche mass media Se la guerra nel golfo Che io seguivo già da piccol Parlo anche della prima Tu di che anno sei Mirko? 82 82 Ok Però sono fissato di questa roba Quindi se c'era una guerra in corso Eh no Certo Io me ne ricordo I traccianti verdi Sopra Baghdad Insomma Ci passavo le nottate A guardare queste cose qui Da ragazzino Certo È stata la prima guerra Che bene o male È andata in tv Eh sì Molto in tv diretta Questa bypassa i media Nel senso Non c'è più L'interlocutore nel mezzo Non c'è più Il giornalista Che fa da tramite Qui la vedi In tempo reale E spesso Il soldato stesso Gira con una gopro Giusto oggi Avevo visto un video Di un combattimento In una trincea Ne ho visti anch'io Di quelli Inquietante Dove c'era praticamente Un vecchio soldato ucraino Che addirittura carica L'RPG al rovescio Quando l'altro Gli lo chiedeva Non si intendeva molto L'altro lo deve praticamente Mettere giusto E sparava E si vede anche Che ha sparato A qualche russo Cioè si vedeva Proprio la silhouette Del russo Che cadeva Questo arriva Direttamente dal soldato Nemmeno dal Mignor Nemmeno dal giornale Che poi lo manda Sul telegiornale Ci arriva direttamente Pazzesco Ed è anche il motivo Per cui riusciamo A seguire questa guerra Così bene Cioè nel senso A volte Lo scarto Diciamo Di errore Del posizionamento Delle unità È nell'ordine Dei metro Perché c'è la foto Della Wagner Davanti Una chiesetta Con una targa E noi sappiamo Che sono esattamente lì Quasi via per via Questo era impensabile E credo che i russi Non abbiano neanche Percepito questa cosa Anche il pericolo Che ogni Ucraino Con un cellulare Tecnicamente Un ricognitore C'era la storia Del bambino di otto anni Che con il suo Drone Praticamente aveva visto Una colonna di russi Arrivare Il padre ha telefonato Tiro di artiglieria Poi gli hanno dato Una medaglia Il bimbo Una roba impensabile Che crea anche Una cosa molto pericolosa Perché nelle guerre future Anche i civili Verranno considerati Parti attivi Assolutamente Ogni civile Che ha potenzialmente Un cellulare in tasca Può essere Cioè diventa Un pericolo per la tua vita Sì sì assolutamente L'informazione diventa Questo sai Questo è un aspetto Forse fra i più Sono parole positive In un ambiente Molto negativo Però sono le cose Fra le più interessanti Di quello che sta avvenendo E c'è però Una controtendenza Abbiamo fatto un feed La settimana scorsa In cui si parlava Dei deep fake Ok In un articolo Molto bello Di Technology Review Che è il blog Dell'MIT Ogni tanto lo leggiamo Durante feed Perché ha degli spunti interessanti Veniva detto Il problema più grosso Dell'onnipervasività Della telecomunicazione E della tecnologia Che adesso riesce anche A produrre molto facilmente Contenuti Che sono quasi indistinguibili Da quello che è la realtà È che a priori Tu smetti di fidarti Di quello che ti viene mostrato E c'è l'esempio Del presidente del Gabon Te lo ricorderai Ok Tre anni fa Una cosa che Lì per lì Mi ha fatto ridere A Carabella Poi si è trasformato In una mezza tragedia Il presidente del Gabon Nel 2018 Se non sbaglio Sparisce dai radar Per due mesi Tre mesi E l'opinione pubblica Comincia a dire Ah questo O è malatissimo O è morto Alla fine I vertici militari Che sono in allerta Per dire Oh ma il presidente Dov'è Tutti temono un colpo di stato Viene fuori un video Col presidente del Gabon Che dice Sto bene Ho avuto soltanto Un momento di difficoltà Nessuno ci crede E i militari Te danno un golpe E tu dici Oh porca puttana Ed è interessante Perché significa Che l'effetto collaterale Di queste tecnologie È il fatto che le persone Hanno perso fiducia In ciò che potrebbe essere reale Si arriva al Matrix Si arriva al Matrix In un modo in cui Matrix non riesce a prevedere Cioè si arriva al Matrix Non perché tu hai una tecnologia Che prende il posto della realtà Ma perché la gente Guarda la realtà E dice Io non mi fido più È il contrario È un Matrix Al negativo Sai cosa mi ha fatto pensare Al mondo di Masamuno Shiro Ghost in the Shell Ghost in the Shell Quando c'è l'hacking Dei cervelli Cibernetici Dove praticamente Alla persona Che gli viene aggrato Il cervello Perché è un corpo artificiale Le puoi far vedere Quello che vuole Cioè lui crede Di essere in mezzo al mare E poi magari È seduto in un bar Ah sì Si potrebbe arrivare a quello Sì Soprattutto perché Vabbè Qui mi perdo un po' Io seguo molto anche Neuralink Ah ok Quindi io collego subito Essendo anche un appassionato Di science fiction Però in realtà Guarda La cosa veramente Più Intrigante È che Non è un effetto diretto Della tecnologia Ma un effetto indiretto Della tecnologia Pensa soltanto Al deepfake Il deepfake Durante le elezioni 2000 Le ultime Le ultime americane 2020 Tutti avevano paura Del deepfake Oddio santo Adesso chissà cosa fanno Mettono Biden E lo fanno sembrare Un antisemita Genocide Via dicendo Chissà cosa succede Non è successo niente del genere Ma Ogni volta In cui veniva fuori Un video di Biden Tutti quanti dicevano E questo è quello vero Ogni volta In cui veniva un video di Trump E questo è quello vero E questa cosa qua È ciò che ci porterà Poi Alla realtà virtuale Non perché Vissuta direttamente Ma perché È la realtà stessa Che diventa virtuale Nel pregiudizzo Il dubbio della percezione Di quello che hai davanti Sia vero o meno Condiziona il tuo stesso pensiero Cazzo È una cosa ChatGPT Ok Intelligente artificiale Adesso Il problema dei testi Che tu leggi online Non è più il fatto Che è prodotto da ChatGPT È che Ti viene detto Che è prodotto Da un autore reale Ma tu Non ti fidi a priori E dal mio punto di vista Se proprio vogliamo parlare Di pericoli per la democrazia Questo è uno dei pericoli Più graviti per la democrazia Perché La democrazia Si basa sul fatto ChatChecking Sembra Tutti uno dei più facts Guarda Ho avuto questa discussione Con Matteo Flore E mi dice La gente non vuole la verità È inutile che fai i debunk E tanto lo guarda Un decimo delle persone Ma sì Matteo C'è sempre quella roba lì È la narrazione È la storia Matteo 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 Ok Ci discuto spesso Su WhatsApp Bacchettate No Cioè nel senso È una prospettiva Prospettiva De costruzionista E via dicendo Che però Non ha mai incontrato Il mio favore Perché poi Alla fine dei conti Quando tu devi portare a casa La pagnotta O quando devi salvarti la vita I fatti Contano sempre più Delle storie Con cui entri in contatto Se tu A priori Disabitui le persone A dire Ok Ci sono dei fatti Non Arrivo ai fatti Ma ci sono dei fatti Oltre alle storie È Hai voglia A costruire una società Società democratica Che funzioni veramente Manca molto in Italia Questo discorso Anche dal punto di vista storico Spesso si fa opinionismo Sulla storia Come se chiacchierasse Al bar Secondo me I tedeschi erano cattivi Secondo me no Chi lo prova Mia opinione contro la tua Non funziona molto In realtà Cioè Si studia storia Ma c'è poca educazione Su come Si Certo Parla di storia Io scorso delle fonti Io lo dico spesso Se mi tiri fuori la fonte Io non prendo nemmeno un caffè È inutile Stare a ragionare Perché la mia opinione contro la tua Possiamo andare avanti Alla finito Poi per carità La fonte può essere fallace Incompleta Si può ragionare su quello Ma se non c'è quella base È inutile Un po' vale anche secondo me Per il conflitto in corso Cioè se vuoi instaurare La teoria Del I russi vinceranno Prenderanno Bakhmut Gli ucraini Resisteranno Ragioniamo su cosa Tu mi vuoi dire questa cosa Discorsi di munizionamento Testimonianze Movimenti di truppe Geolocalizzate Io parto sempre dai dati C'è una base un po' più concreta Della geopolitica Assolutamente Assolutamente E quindi magari È utile Ma secondo me Sono le due cose Si possono incorporare C'è una parte Diciamo Più filosofica Teorica E una parte più pratica E forse questa guerra In Italia Che ha fatto emergere I Dario Fabri E altri Sta facendo emergere Anche chi si occupa Della parte più pratica Che secondo me Si congiungono Le due cose Sono due discorsi Che secondo me Se si vanno a integrare Potremmo rendere La geopolitica Insieme all'analisi militare Le open source Intelligence La geolocalizzazione Qualcosa di più tangibile Sì sì Questo Di più pratica Questo è vero È complicato Anche perché poi Si creano i campanilismi Però insomma Sono anche io Ottimista su questo Sono meno ottimista Sul fatto Della percezione pubblica Invece di un discorso Sul conflitto Perché lo dicevamo prima Purtroppo Noi viviamo un momento storico In cui soprattutto La sinistra italiana Diciamolo chiaramente Ogni volta in cui si parla Di forza militare Di guerra Di conflitto E via dicendo Alza l'antena e dice Ah io non voglio saperne Ok Metà dei libri di storia Scritti in Italia Hanno sempre la prefazione Mi dice Io Mi occupo di storia militare Ma sono per la parte Esatto Devi mettere il disclaimer Io ho amici militari Ma Devi mettere il disclaimer Questo Non voglio Diciamo divagare troppo Però è un'eredità Anche interna All'Italia Nel senso Il militarismo In Italia È vissuto molto male Non abbiamo Una cultura militare Un po' per la nostra storia Insomma Le nostre disfatte Siamo un popolo Che ha perso Quasi tutte le guerre Se vai a vedere Cioè Anche l'unificazione Dell'Italia Tramite Le guerre L'abbiamo quasi perse tutte I prostiani Ci prendevano a dire Voi avete preso i territori Ma l'abbiamo vinta noi Che si ricorda l'Issa Insomma Altre battaglie Quindi Un po' è umiliante Parlarne E un po' c'è il problema Mentre della seconda guerra mondiale E quindi Parlare Di storia militare È un po' un casino Un po' un casino Però è anche Un tirarsi La zappata sui piedi Perché poi Tu ti rendi conto Che Questo sentimento Di allontanamento Dal Dal discorso bellico È stato un grande privilegio Legato al fatto che Per 70 anni Diciamo così È ancora oggi Perché non c'è un conflitto In Italia Ok Ma per 70 anni Conflitti Che in qualche modo Minacciassero La nostra esistenza Democratica Non ce ne sono stati Adesso scoppia E abbiamo l'eredità Invece di questo aspetto Di dire Eh no Tutto ciò che è Conflitto Guerra Militare È tutto male È un po' male Manca 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 l'attroverso qualcosa Se vuoi bevi È tranquillo Manca la parte militare Cioè La cultura Eh sì 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 Assolutamente Manca qualcuno Che da racconti Non ci sono think tank militari In Italia Certo Non se ne parla Sì 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 Credo il nostro sia il primo Ci si occupa di solito Di geopolitica Un po' più Umanizzando la cosa Ma sì Molto geofilo Tecnico Poco Gli inglesi hanno Una delle maggiori scuole Proprio di analisi militari Gli americani anche I russi Figuriamoci Certo Che portano avanti Da una vita Per noi è un po' un tabù E magari ci stiamo un po' Risvegliando Sì ok Ma secondo te Questa cosa Culturale È in parte Almeno Alla radice Del fatto che poi Come vediamo Tranquillamente Gli equipaggiamenti italiani Che adesso Vengono chiamati In causa Per l'aiuto Agli ucraniani E via dicendo Tutto bene Se bisogna andare in bagno Facciamo una pausa Dimmi tu Tranquillo No dicevo Questo fattore culturale Sta alla radice Anche del fatto che poi A livello militare L'Italia È da quello che si vede Insomma uno dei paesi Più inadeguati A quello che sta accadendo E non so se sia una percezione Sbagliata Ma a me pare Che da quello che leggo Sia un po' così Non c'è una volontà Ok Ora ci si sveglia L'Italia è il paese Delle crisi Ci si sveglia Perché Sta succedendo questa guerra Previsamente scopriamo Che abbiamo 20 carri armati funzionanti Siccome è finita la crisi Si ritorna Allo status quo Come sta succedendo Con la pandemia Peraltro Cioè nel senso Tu guarda Tutti i giornali Nessuno parla più di nulla C'è ancora gente Che per covid Comunque sta male E muore Però non se ne parla È il paese dell'emergenza Ci si occupa di una cosa Solo in stato emergenziale E poi si ritorna Esattamente dove si era prima Questo è veramente incredibile L'Italia è sempre andata così Porca miseria Da sempre Altrove hanno una grossa cultura Perché si rendono conto Che la dimensione militare È un extrema razio Ma esiste È sul tavolo Certo I russi più di tutti Gli americani poi Gli americani hanno Un po' di expertise A riguardo Mettiamola così E i russi Se la stanno facendo Se la sono fatta anche Nei decenni scorsi Ma sai Io da questo punto Visto che tu sei appassionato Di Tolkien Io credo che Una delle cose più interessanti Che Tolkien abbia scritto Visto che lui La guerra l'ha vissuta In prima persona Ci ha perso I suoi migliori amici Durante la prima guerra mondiale E la cosa che magari pochi conoscono È che lui ha scritto I suoi primi racconti In trincea Cioè nel senso La storia La storia di Beren e Luthien Lui La schematizzazione La storia L'ha formato L'ha formato Cioè la guerra l'ha formato E infatti c'è quel pezzo Che per me È ancora oggi Una delle cose più belle Scritte A riguardo della guerra Del conflitto Quando Gandalf e Saruman Si incontrano Ok E Saruman Saruman fa la parte Del razionalista Quello che dice La violenza Perché questa cosa Nei film si perde Ok si perde completamente Saruman nei film Sembra un pazzo Un pazzo Preso da Da Smani di potere Ma nel libro Non è così Saruman fa un discorso Che è molto Molto razionale Lui dice Io so che con Sauron Non ci posso fare i conti Lo sappiamo È troppo potente Esiste solo un signore dell'anello Esiste solo un signore dell'anello Lui Lui è troppo potente Cosa che possiamo fare? Possiamo allearci con lui Perché la nostra saggezza Di Istar Può In qualche modo Questo è il sottotesto Circuirlo E portarlo dalla parte giusta È il trionfo Della diplomazia comunicativa Ok quindi L'idea che Qualsiasi conflitto Del mondo Che sia esso psicologico O anche militare Possa essere controllato Grazie all'uso Della ragione E Gandalf gli dice Ma che Ti sei rincitrollito Non è così Siamo già ben oltre Il momento in cui Anzi con Sauron Manco puoi ragionarci Perché il Sauron è male Cioè male Non è come il mostro di Frankenstein Che è nato buono E poi viene traviato Dalla società È Dracula È la maledizione Un'imperitura Con cui non puoi mai Fare i conti E quindi Gandalf Fa la parte Del guerrafondaio Dice no Io devo prendere Teoden E portarlo in guerra Ora diresti Che è un interventista Pro guerra Esatto Gandalf Maledetto Saruman Pacifinto Orsignano Dell'ultima ora Ok Cioè nel senso Capiamoci E Io mi ricordo Quando Quando lessi La prima volta Nella mia vita Quel passo Rimasi proprio con questa idea qua A dire Cazzo Ma è vero che io Era un quattordicenne Ok E ho guardato dentro me stesso Ho detto Cazzo ma è vero che io Tutti i conflitti possibili Della mia vita Ovviamente conflitti Di quell'età In qualche modo Mi sono convinto Di poterli risolvere Con raggio Perché io ho letto Più o meno A 13-14 anni Ascoltando i Brian Guardian Album Middle Earth E io qualche anno dopo di te Io Ascoltavo I Linkin Park Io ogni volta Che leggo il signore di Nelly C'ho sotto In the end Dei Linkin Park Non c'è nulla da fare E E questo aspetto qua Rappresenta molto bene L'atteggiamento Che abbiamo noi Noi ci siamo convinti Che la diplomazia Possa tutto Perché è una posizione Di comodo peraltro Ok La parola Può Vincere Qualsiasi male Non si accetta Secondo me Quella componente Di caos Prendiamo per assunto Che la teoria di Fabri Sia vera Cioè che Le nazioni Siano Riportabili La dimensione umana Del singolo Bisogna citare anche La pazzia La parte illogica Certo Quindi I attori Prendono Saddam Che prende Attacca il Kuwait E si aspetta Che il resto del mondo Stia a guardare Certo Non te lo puoi aspettare Ricordiamoci Per esempio La seconda guerra mondiale La scommessa Ribbentropi Insieme a Ciano Fanno la scommessa Che Ma no Inghilterra e Francia Non interverranno Se vinco io Ti do Una collezione Di armi tedesche Se vincite Mi dai un quadro Rinascimento Italiano Sappiamo com'è finita Non esattamente così Nessuno potrebbe pensare Che Uno Stato Possa prendere la decisione In base Allo schiribizzo Di un dittatore Di un capo di Stato Ma in realtà C'è quella parte Certamente Ma E questo è Secondo me Un punto Veramente importante Nella Sempre per il discorso La massa Il singolo Tu quando fai Un discorso Politico Non puoi Agire Tenendo conto Nell'equazione Di quella variabile Individuale Ed è per questo Che La morale Non può rientrare Nella politica La morale Ha a che fare Con altri aspetti La politica È una cosa Razionale E statistica Una cosa Da qui L'emotività E l'empattia Dovrebbe essere Il più possibile Idealmente E spunta Perché dall'altra parte Se tu nell'equazione Metti la pazzia Ti fermi all'immobilismo C'è un bellissimo articolo Che abbiamo letto Qualche settimana fa Sul Cosmopolitan Globalist Che ogni tanto Caccia fuori Delle cose interessanti In cui viene detto Esattamente questo Si parla del nucleare Visto che è un tema Che prima è stato citato Il ragionamento È il seguente Certo che Putin Potrebbe C'è una percentuale Di possibilità Che Putin L'orologio nucleare L'orologio nucleare Quell'articolo là Io volevo 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 rompere la tavola di cogi Quando l'ho letto Ho detto Ma andate tutti a fanculo Comunque Il punto è che Certamente che c'è quella possibilità Ma nell'agire politico Io ho quella possibilità Non posso metterla Nell'equazione Perché Quella possibilità Si mangia tutte le altre Cioè la pazzia Che si scatena nel mondo Lo sappiamo Capita La variabile Totalmente imprevedibile E imprevista Si scatena Se io la faccio rientrare Nell'equazione Delle mie possibilità Le mie possibilità Spariscono tutte Se Metto nell'equazione La possibilità Che Putin lancia il nucleare Io Non potrò mai più fare nulla Nei confronti Dell'aiuto Dei miei vicini di casa Non potrò più fare nulla Nei confronti Del contrasto Alla sua violenza Non potrò fare più nulla Non andare a lavoro Perché c'è il rischio di un incidente Esattamente È quello che è avvenuto Dopo l'11 settembre Ok C'era questo discorso psicotico Del tipo Tutti stanno a casa Tutti stanno a casa Perché in realtà Potresti entrare In qualsiasi E qualsiasi palazzo può Certo che c'è la possibilità Che qualsiasi palazzo domani Venga abbattuto Da un 737 Certo che c'è la possibilità Ma se tu metti Quella possibilità Nell'organizzazione razionale La tua vita La tua vita scompare Che è la grande forza Del terrorismo Se ci pensi Il terrorismo gioca Sul fatto che noi Nella politica Ci mettiamo alle emotività E Putin Sta giocando sullo stesso fatto Per questo che poi La Russia È diventato paese terrorista Fanno le minacce Le cose Il tema è esattamente lo stesso E invece Se tu vuoi agire Se tu In mezzo a Un Una riot Del tuo quartiere Vuoi trovare il coraggio Di aiutare Il vicino di casa Che è malmenato Da Delle persone Poco Irreprensibili Tu Devi Agire Come Se questi Non faranno esplodere La granata Che si tengono in tasca Che non si suicideranno Insieme a tutti gli altri Perché se tu Prendi quella possibilità E la usi Come Forma della tua equazione La tua equazione Darà sempre Zero Non potrai fare mai nulla Sarai immobile Mi ha ricordato Una barzelletta Un po' brutta Però la racconto Lo stesso Raccontiamola Disclaimer Barzelletta brutta Attenzione Come fermi I due ciechi Che si stanno picchiando Basta urlare Occhio che l'altro Ha un coltello Perfetto 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 È esattamente così La possibilità È brutta ma è vera È brutta ma è vera La possibilità impossibile Che rende tutto quanto impossibile E questa roba qua Ogni volta che si parla di nucleare E di minaccia nucleare Si perde completamente Non mandiamo nulla Perché altrimenti Non mandiamo nulla Ma allora la conseguenza E dov'è che metti il confine allora Perché se non mandiamo nulla lì Allora significa anche Che quando Cioè l'escalation Di cui si parlava Ok Che tutti dicevano Eh no ma Hitler Putin non è come Hitler Se tu metti Ora l'abbiamo visto Con il discorso della Moldavia Che tenta di stabilizzare Peraltro Meno male Fino a ieri C'erano alcuni Non faccio nomi Che dicevano No 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 Putin dopo l'Ucraina Si vuole fermare Guarda io Vabbè Certo che Io sono convinto Che Putin non sia come Hitler Ma di nuovo Per la questione dell'equazione Ma se io metto Nella mia equazione La possibilità Che Putin possa usare nucleare Ovvero suicidare la Russia Io devo trattare Putin come Hitler Non posso fare Non mi dai un'altra scelta Allora Il punto è Vogliamo essere logicamente coerenti Se tu mi dici Che Putin non è Hitler Io devo mandare Armi all'Ucraina Se tu mi dici Che Putin è come Hitler Allora lì Dobbiamo ritirare Qualsiasi possibilità democratica Nella nostra vita Non c'è Non c'è nessuna possibilità Devi restare immobile completamente Devi aspettarti qualsiasi cosa Ecco Su questo Sai Spesso mi fanno Ah perché Dobbiamo mandare le armi All'Ucraina Non le abbiamo mandate in Yemen O nel Nagorno Karabakh Io qui voglio fare un discorso Molto cattivo Te lo dico Sai Tu sai quanto Lo sai che mi piace Io voglio sentirlo Molto Io voglio sentirlo Cinico Scusa È un paese Lontano No ho sbagliato È la voce duccia È solo Da me Cazzo Volevo attivarti la voce duccia Adesso Faccio un discorso Cattivo Cazzo Si attiva solo per un microfono Nel senso Sono paesi lontani Con cui non abbiamo Praticamente rapporti Né commerciali Né di particolare amicizia Che bene o male Si trovano anche a combattere Dei paesi Che bene o male Sono questi alleati Certo L'Arabia Saudita L'Italia che interessa avrebbe Proprio dal punto di vista cinico Di intascarsi una lotta di questo tipo Così lontana Hai solo i malus Dico cinicamente Cioè ti staresti per infilare Contro gli alleati Dei nostri alleati Purtroppo c'è anche questo In questo mondo Certo Spesso viene sempre Perché io mi sono reso conto Che quando si ragiona in queste cose Si cerca di riportare Tutto a una dimensione morale E qui si ritorna al discorso Di Larry Fab Gli stati Non sono onesti Buoni Giusti Esattamente hanno Le stesse difetti Degli esseri umani E esattamente come Gli esseri umani Non hanno tutti i pregi Che dovresti trovare In una persona E quindi Ci sono anche queste cose qui All'Italia Non conviene Aiutare lo Yemen Qui la situazione Invece è vicino a noi Può avere un impatto Sulla nostra vita E lo sta avendo Certo E quindi Abbiamo più interesse Ad agire È tutto qui Ma è talmente semplice Talmente logico Che è lo stesso motivo Per cui onestamente Il 90% delle persone Che ci stanno ascoltando Se vedessero Due uomini Che si picchiano A meno che uno di due Non sia un suo amico Non intervengono Certo Certo Assolutamente Assolutamente Eh ma di nuovo Torna il discorso Della separazione Fra individuo Morale E massa Statistica Guarda che questo Cioè Mezzo mille anni fa L'aveva già scritto Hobbes Hobbes quando dice La politica deve basarsi Solo sulla ragione calcolante Lui l'ha già detto Quella roba lì È molto interessante Perché quando si parla di Hobbes Tutti quanti prendono sempre L'omo homini lupus E moralizzano il discorso Ma è una stronzata Non è una morale Vuol dire non averlo capito Vuol dire non aver capito Vuol dire non aver capito Che quello in realtà È proprio la considerazione Statistica Calcolante Lui dice Lui dice L'unica cosa È la ragione calcolante Che vuol dire Espellere dal mio ragionamento Quando ho a che fare Con la politica Qualsiasi questione emotiva E morale Certo qualcuno potrebbe dire Eh vabbè Questo ti fa essere Una persona di merda No Una persona che funziona In quell'ambito E che non vuol dire Che poi quando è a tu per tu Con il suo miglior amico Non sia una persona Empatica Emotiva È che sono due mondi diversi Se tu metti La ragione emotiva In dove deve stare Solo la ragione calcolante Allora lì hai La notte in cui Tutte le bacche sono nere In cui ogni conflitto Vale come tutti gli altri E non è così Non è così Perché semplicemente Siamo creature Che si basano Sulle equazioni statistiche Che dovrebbero basare La propria esistenza Anche sulle convenienze Convenienza non significa Io sono così stronzo Che guardo solo Il mio guadagno Significa Quello che faccio Ha un impatto sulla realtà E se tutti agiscono Soltanto negli ambiti In cui le cose Hanno un impatto sulla realtà Allora lì forse Si arriva a registrare Un equilibrio In cui le ingiustizie Vengono un po' meno Rispetto ad altri ambiti Ma se io invece dico Nell'ambito dello Yemen Dell'Iran Dell'Ucraina Devo metterci l'emotività Allora lì Di nuovo Ti rendi immobile Perché l'emotività Deve tenere conto Della follia Dell'impossibilità Poi ci sono un sacco Di problemi legati A questo Per esempio Uno dei discorsi Più difficili è La Russia Ha attaccato l'Ucraina Per l'espansionismo nato E qui si entra in un terreno Vogliamo aprire questo vaso di Pandora? È un terreno minato Minato Nel senso che L'espansionismo nato Tecnicamente non esiste I paesi entrano per Adesione Però bisogna anche capire Che dall'altro Dall'altro punto di vista Salutiamo Diego E gli faccio anche Un piccolo tributo Scusami Grazie al Cielo Scusami Grazie Vabbè Un ciao a Diego Ciao a Diego Nel senso che È comunque Un'alleanza militare Cioè non è un parco giochi Non è una Ollus La Nato È comunque Un'alleanza militare Quindi dal punto di vista Dei russi Semplicemente Che Noi ci espandiamo Per Adesione Volontari Democrati Non gliene frega nulla Lo percepiscono Comunque Con una minaccia Con una minaccia Quindi se ci può essere Un diciamo Un qualcosa Che si può ricriminare Agli occidentali E di non aver avuto Quella sensibilità cinica Però di considerare Il fatto che Un'alleanza militare Dal loro punto di vista È comunque Un'alleanza militare Certo Certo Questo non giustifica I russi Dal prendere Certo tipo di decisioni I popoli possono Prendere le loro decisioni Entrare nell'alleanza militare Che li pare Ma sempre di alleanza militare Si parla Sì sì Su questo non c'è dubbio E in questa Questione pratica Esiste il soft power Esistono le sfere di influenza Almeno certi popoli Credono che esistano Le sfere di influenza È un modo di ragionare Molto vecchio Quindi per i russi L'Ucraina Non è solo una questione Della possibilità Che poteva entrare Nella Nato C'è anche il discorso Dell'esperimento Io questo lo racconto spesso Se in Ucraina Si afferma una democrazia Filo occidentale Con i nostri valori Un popolo così prossimo Ai russi Per contaminazione Nel tempo Sarebbe anche passata in Russia Questo significa La fine del sistema oligarchico Che ha messo su Putin Probabilmente anche la Bielorussia Anche perché Lo sappiamo Se potessero votare In Bielorussia Andrebbero verso l'Europa Non starebbero certo Con Luca Scemo Come lo chiamo io Assolutamente Bello Luca Scemo Mi piace E quindi lo vedono questo rischio Quindi per loro Per un dittatore Per chi ha creato Un sistema di questo tipo Tutti questi fattori Messi insieme Divendono una questione Di vita e di morte Però questo che hai detto È molto importante Perché Allora mi dice Da un lato il fatto che La Russia Adesso dico la frase È fastidiosa Ha le sue ragioni Che non significa Che siano ragionevoli Significa che ci sono Delle ragioni dietro Ma ehi Credo che soltanto Un mentecatto Non si renda conto Che dietro una scelta Così rischiosa Così pesante Tagliarsi fuori Dal commercio internazionale Per i prossimi 30 anni Cioè nel senso E se siamo fortunati Non so quanto Abbiamo calcolato i rischi Cioè sempre il discorso Del Probabilmente riusciamo A prenderla in tre settimane Sì Beh Probabilmente I rischi li hanno calcolati Li hanno sottostimati Cioè nel senso Non credo siano così scemi De non aver detto E forse ci tagliamo fuori Non credo avessero previsto Uno scenario Ecco non hanno previsto Quello sicuramente Ma infatti c'è anche La conferenza di Putin In cui dice Le sanzioni Così Non ce le aspettavamo Ok Dice Dietro la decisione russa Ci sono delle ragioni E io credo che sia importante dirlo Anch'io l'ho detto Cioè nel senso Quello che ha fatto Putin Ha delle ragioni E io devo considerare Quelle ragioni Perché altrimenti Torno al discorso della pazzia Se io presuppongo Che Putin sia pazzo Allora devo presuppondere Che sia Hitler E allora vaffanculo a tutto Dall'altro Mi dovrebbe far considerare Le nostre ragioni Cioè Se io ho uno scenario In cui Di fronte all'adesione Alla Nato Per quanto sia Un'alleanza militare In cui delle democrazie Dicono Beh Preferiamo questo Rispetto a quello Perché quello L'abbiamo già conosciuto E non ci ha fatto Particolarmente piacere Io dico sempre Fatti una domanda Perché i tuoi ex Alleati Voglio andare da l'altra parte Esatto Esatto Quindi Se io ho delle democrazie O delle non democrazie Che dicono Beh io preferisco Un po' l'Europa Ai russi E la risposta russa Non è quella Di rendersi più appetibile A quel mondo Perché poi ricordiamoci Che tutto si è anche scatenato Quando l'Ucraina Aveva firmato Dei trattati commerciali Con l'Europa Dismettendo Trattati commerciali Con la Russia In modo legale Legittimo Ma la Russia Stava Ci sono molti strati Molti strati Anche commerciali Quindi economici Questo peraltro Fu ammesso Dall'Avrov In trasmissione E nessun giornale Ne ha parlato L'Avrov disse Eh sai L'Ucraina Ha smesso di commerciare Con la Russia E commercia con l'Europa E la risposta Della Russia Di fronte a queste cose qua Non è quello Di rendersi più appetibile Più aperta Ma è quella Di farti la guerra Allora La domanda è che Ma anche un italiano Ma anche il più Casapaundiano Ma anche il più Meloniano del mondo Anche il più salviano Dovrebbe dire Ma io cos'è che preferirei Nella mia vita Cioè preferisco Un vicino Che di fronte Alla mia valutazione Di un altro mondo Più appetibile Dice Aspetta aspetta Ti faccio un'offerta migliore Ok Oppure un vicino Che mi fa L'offerta che non si può rifiutare C'è un bombardamento Della mia capitale L'incapacità Di porsi questa domanda Per me è molto grave Capito Cioè Il fatto della simpatia Nei confronti Di una nazione Che di fronte a questa valutazione Ti bombarda civili E ti deporta Centinaia di migliaia Decina di migliaia Di bambini in Russia Ok abbiamo visto I video in questi giorni Sono terrificanti Qualcosa di terrificante Non hanno soft power Quello è il loro problema Ecco Questo Non l'hanno mai applicato Non hanno mai avuto bisogno E quello è il discorso Cioè Hanno sempre usato la forza E quindi non sanno Dove sta di caso Soft power Spesso i finlandesi Mi ricordo Il primo ministro finlandese Nella guerra Poco prima della guerra Diciamo Fino russa Disse I vicini della Russia Sono quelli che la Russia decide Ne più ne meno Questo è il loro problema Ovviamente questi sono i fattori Che vanno a determinare Poi le scelte russe Tra l'altro Sono passati Da un periodo Di pan slavismo Perché comunque Polonia Ucraina Insomma Tutti i paesi slavi Ora ha un pan russismo Quindi Tanto più li metti all'angolo Tanto più diventano Anche Estremisti Certo Certo E questo è il motivo Per cui Secondo me La Russia è proprio L'impero dell'Ottocento Che cerca di dire Perché i metodi Sono quelli dell'Ottocento Non sono quelli dell'Ottocento Sono dell'Ottocento Cioè il discorso Dello spazio vitale Della Dell'accerchiamento Sono proprio discorsi Territoriali Che sembrano Presi da Von Clausewitz È proprio quello Cioè nel senso Territorio Terra Il nomos della terra Di Carl Schmitt Sai Sono passati Dallo Tsar A Stalin Che non è stato Un passaggio particolarmente Cambia più o meno Il sistema Cioè da comunista Sistema Diciamo imperiale Qualunque cosa sia Quella che È sotto Putin Ma comunque Sempre il discorso Di un uomo al comando Che usa la forza Usa il terrore Per tenere il suo popolo Quindi La differenza Non è così grande Nel loro sistema In più hanno vissuto Gli anni 90 Il periodo del crollo Come Avete visto Noi abbiamo perso Ora ci fanno Pagare il prezzo Certo I americani Questo non hanno lietato Dicendo Noi siamo gli unici Vincitori della guerra fredda E quindi ora Tocca a noi Gestire il mondo Questo i russi L'hanno sentita parecchio In più hanno collegato Secondo me è male Cioè la gestione Gorbachev Eccetera Il fatto che Occidentalizzazione Significa povertà Perché gli anni 90 Loro ne hanno passati Malissimo Un ricordo brutto Un ricordo brutto Degli anni 90 Sì è vero Furbamente però Persone come Putin Hanno legato Questa cosa All'occidente Hanno creato una narrazione Che funzionale Pura propaganda Pura propaganda Io seguo spesso un canale Non so se lo conosci Si chiama 1420 No È un ragazzo russo Che rieschia tantissimo Che va in giro per la Russia A fare interviste Ah no no Ho capito Ho capito chi è Non mi ricordavo il nome del canale Ed è interessante Ed è interessante perché trovi A parte ieri che ho visto Uno che sapeva Non sapeva addirittura Della Della liminal warfare Sapeva delle security Dilema Cioè un russo Veramente Veramente Consapevole Consapevole della situazione E altri invece Completamente distaccati Della realtà Nato Nemici Ci vogliono Invadere Come se uno potesse invadere Un paese Io sento qualche intervista Questo fa capire Della spaccatura Che c'è all'interno del paese I giovani sono molto più consapevoli Quelli da 40 in su Invece sono completamente Imbevuti Di quella narrativa Ah lo immagino Perché loro hanno vissuto Gli anni 90 Ed essendo anche loro Una popolazione vecchia Come stiamo invecchiando noi È lì che Putin Riesce Ad avere il supporto Per mantenere Nonostante la situazione Insomma abbastanza tragica Sì 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 È interessante questo Senti qua Un'ultima cosa Che vorrei discutere con te Prima di passare poi alle domande È una sensazione che ho La sensazione è legata Al fatto che Negli ultimi due anni Dallo scopo della pandemia Quando Xi Jinping Ha cominciato a consolidare i poteri Poi Putin E poi Trump pre-Biden E via dicendo C'è questo discorso Del cesarismo Ok C'è il ritorno All'uomo forte Che anche in occidente Si vede molto Molto marcato E via dicendo Però a me pare Che quello che è avvenuto Dopo la guerra In Ucraina Contradica molto Questo aspetto Perché se tu vai a guardare Tutti i sistemi Democratici Che tutti vanno Per spacciati Quindi Sistema delle sanzioni Ok Oppure sistema di Distribuzione di merci globali Tutti questi aspetti Adesso anche con le elezioni Le abbiamo visto insomma Negli ultimi due anni In realtà sta contraddicendo Questo aspetto Però dall'altra parte Tu hai un mondo Invece che va in quella direzione Quindi hai la Russia con Putin Hai la Cina con Xi Jinping E poi hai una serie Di autocrazie E le domande Sono due Che ti faccio Sono proprio semplici Ok La prima è intanto Come vedi la Cina Se è un campo In cui insomma Tu ti senti di dire qualcosa In questo ambito E in secondo luogo Secondo te Veramente la democrazia È in crisi In questo momento Oppure quello che sta avvenendo Potrebbe rafforzarla E la sta rafforzando Con questo tipo di Nuove adesioni alla Nato Nuove adesioni al blocco occidentale E via dicendo Allora Sulla Cina La Cina teme Di dover intervenire E quando devi intervenire C'è il rischio che Fai bene o fai male Che succede Se il loro intervento Di mediazione Poniamo In questa situazione Tra i russi Noi Diciamo L'occidente Va male Perdita Dal punto di vista Insomma Mondiale Anche della considerazione Che hanno di se stessi Quindi alla Cina Non conviene esporsi Anche se ultimamente Hanno cominciato Già a parlare di più Questa situazione Va risolta Sì 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 è vero Dall'altra parte C'è il discorso Che una Russia Indebolita Beh alla Russia Alla Cina Considerando quanto consumano E quanto dovranno consumare In un futuro Beh Fa comodo Poter comprare Idrocarburi Gas A basso prezzo E magari tecnologia Perché ricordiamo I russi Producono buona tecnologia Per dire Su 57 E altre cose Però poi non hanno I soldi Per produrla In quantità Tali Da fare la differenza E i cinesi Si vogliono recuperare Insomma Su alcune fasce tecnologiche Sul discorso invece Della democrazia Non lo so Perché spesso Io ho notato Che si dà un valore Assoluto Alla democrazia Siamo sicuri Che la democrazia Di per sé È un valore Assoluto Nel senso Quando uno stato È in difficoltà Abolisce anche La democrazia Certo È successo Varie volte Perché Perché il fine ultimo Di uno stato Qual è? Preservare se stesso Certo E poi C'è il discorso Che non abbiamo problemi Ad avere rapporti Anche con dittature O Perché la pensino Bene o male Come noi O geopoliticamente Siano allineati Verso di noi Quello che vedo io È un po' Una creazione Di Io li chiamerei Protoblocchi Linea del pensiero Occidentale Quello russo A parte Perché ricordiamoci Che i russi Sono anche estremamente Razzisti Verso i cinesi Il libro di Dugin L'hanno dovuto castrare Per mandarlo in Cina Perché aveva delle cose Sui cinesi Che te le raccomando E ovviamente C'è un'altra linea Di pensiero Di paesi emergenti Come può essere L'India Il Brasile L'Argentina Ed altri Che dicono Noi con l'Occidente Non è che vogliamo Poi così tanto Averci a che fare Forse vogliamo farci Un blocco nostro E bene o male Flertano Un po' con la Russia Un po' con la Cina Però ricordiamoci Che India Cina e Russia Sono tre Che non vanno Troppo d'accordo No Questa è una legge Base della geopolitica Che però Questa è vera Non è soltanto È più facile Allearsi con la potenza Più lontana Che non con quella Più vicina Cioè l'India Riesce ad avere Rapporti ottimi Con la Russia Soprattutto su Con la Cina Un po' di meno Un po' di meno Ricordiamoci Le bastonate Che si danno Madonna santa Ecco Quindi io vedo questo Sai è difficile Tornare anche A modelli storici Cioè vedere Quello che era successo Che so Nei primi del novecento Con Barbera Avevamo parlato Della Belle Epoque La fase di riarmo Ecco Barc Bloch Ci insegna Che non dovresti Prendere esattamente Quello che è successo Prima per applicare Quel modello A quello che succede Ora Però qualcosa Puoi Qualche esempio Puoi utilizzare Per cercare di capire Come il discorso Delle sanzioni Qual è il primo paese Che ha subito Le sanzioni Non lo so Noi Noi Non la Germania Prima di noi Guerra dei Tio Fu la prima volta Che vennero applicate Le sanzioni Ci fermarono No No direi di no Ci infastidirono Parecchio Quello che spesso La gente si scorda Di raccontare È che L'intervento in Etiopia Le sanzioni È quello che poi Non permetterà All'Italia Di rimodernare Il suo esercito Tra il 35 e il 39 Quindi noi andremo Nella seconda guerra mondiale Con i biplani Mentre i tedeschi Avevano 109 E Certo E gli inglesi Avevano le speedfire E gli hurricane Quindi ha avuto Un effetto Ma ci sono voluti 4 o 5 anni Ah sì E l'altro effetto Negativo È quello che Ovviamente Francia e Inghilterra Non permettendoci Di avere Il posto al sole Ci farà scivolare Verso L'alleanza Con Hitler Quindi Le sanzioni Hanno effetto Nel tempo Forse la narrativa Che hanno sbagliato I media nostri È di dire Con le sanzioni La guerra si ferma Quasi sono È stato un errore grosso Serve per dire ai russi Occhio che nei prossimi anni Avrete un sacco di problemi Ma non fermerà questa guerra Nel momento Il problema è che non vorrei Che avesse lo stesso effetto Che ha avuto Per l'Italia Lo scivolamento Verso la Cina In questo senso Russia e Cina Che scivolano Lontane La Russia per quanto Non ci piaccia Conviene più Tenerla Verso l'Europa Che non verso la Cina Guarda io Su questo Sono d'accordo È una paura Dall'altra parte Io ho fiducia Sul fatto che i cilisi Sono tanto innamorati Dei soldi Nel senso Cioè nel senso Le cugnano Guarda Io ho fiducia su questo Ho fiducia al fatto che La Cina A differenza della Russia È una nazione Che dagli anni 90 Ha visto una crescita incredibile E tu hai una generazione Adesso giovane Che Ha ancora bene in mente I propri nonni Che hanno vissuto Letteralmente Nel fango E nella merda Anche i padri E anche i padri Ok E loro invece adesso Vivono una vita Quasi tutte le zone Non dappertutto Il dire Questo è il nostro momento Di godercela Meglio Guarda io Ho anche degli amici Che hanno lavorato In Cina Ho per esempio Un caro amico Che ha insegnato Insegna ancora in Cina Ogni sei mesi Va all'università di Shanghai E lui mi dice una cosa Mi dice Quando tu hai a che fare Con dei giovani cinesi Tu hai proprio la percezione Di quanto loro siano grati Del fatto di non vivere Come i propri padri Non solo tu hai i padri Che hanno fatto E le madri evidentemente Che hanno fatto Dei sacrifici enormi Per mandare le università Ma tu hai delle generazioni Che si sbattono In maniera incredibile Io loro vivono il boom Come noi anni 60 70 Questa è una cosa È una cosa Che secondo me Renderà difficile Il fatto che la Cina Faccia delle scelte Che la taglierà Veramente fuori Dal mercato internazionale Perché il loro Terrore di ricadere Negli anni 80 Secondo me È troppo forte Cioè lì veramente I soldi potrebbero salvare il mondo Ma infatti Hong Kong Aveva un peso per i cinesi Negli anni 80 Poi quando Perché era Un'economia molto florida Poi quando Più o meno negli anni 2000 Si sono resi conto Che Hong Kong rappresenta L'uno virgola Rispetto all'economia cinese Non aveva più tanto senso Rischiare Sanzioni internazionali Per prendersela Secondo me Taiwan finirà Più o meno Sullo stesso livello Taiwan diventerà Talmente insignificante Sul discorso Dell'economia cinese O magari recupereranno Anche sui semiconduttori Che è più una fissa Personale di Xi Jinping Sì esatto Non prenderla come futurologia Questa Né quello che ho detto io Né quello che ha detto Mirko Però È più una speranza Cioè io veramente Gli spero che L'apertura ai mercati Che la Cina ha vissuto Adesso per quanto Xi Jinping abbia Comunque un momento Di market shrinking Da ogni punto di vista Però lo sta facendo Con i guanti Cioè non lo sta facendo Con i piedi di piombo Tu credi nel buon commercio Come soluzione Lo diceva anche Klaus Guarda io Mirko Io ti dico Il contrario della guerra Non è la pace È il commercio Per me Ed è sempre stato così E ogni volta In cui tu studi la storia Ti accorgi che A tenere in piedi Le relazioni internazionali È stato il fatto Di avere interessi Concomitanti È il motivo Per cui Qualche mese Prima dello scoppio Della guerra Io Feci un video Dicendo Attenzione A tagliare fuori Putin Dal commercio internazionale Perché sarà ciò Che lo spinge Nei confronti E avere interessi Concomitanti Nutriti Vincendevolmente Sia ciò che permette Anche agli Exempi Di fare Quattro pensieri In più Prima di prendere Una decisione Che danneggia E questa lezione Servirà anche Gli americani Prossima volta Che faranno Una cavolata Tipo quella Probabilmente Anche il mondo Occidentale Dirà No Stavolta Mi sa che le sanzioni Dele prendi anche te O rischi Molti rapporti commerciali Quindi questa lezione Potrebbe servire Molto Anche per eventuali Future guerre Certo Perché le ripercussioni Saranno veramente Prevenirle eventualmente I cinesi stanno studiando Molto quello che succede Soprattutto le sanzioni Perché ci conviene Prenderci l'isoletta Per un discorso Di cancellare Lo sai Il secolo Dell'umiliazione Queste cose qui A monte di Sanzioni Per dieci anni Di questo peso E loro vivono tutto Praticamente Di esportazione E di noi Che produciamo Da loro Quindi quella È la mia speranza La mia speranza È che il commercio Faccia fare sempre Sei pensierini in più Prima all'oxygen Pindituro Poi vedremo Perché di nuovo Tu devi sempre Presupporre Che la pazzia ci sia Ma nell'equazione Con cui ordini La tua vita Non puoi metterla Nel conto Perché altrimenti Non vivi più Non fai nulla Sei condannato All'immobilità Non avremmo neanche Fatto questa live Perché cazzo La paura di un attacco E il cogito studio Sarebbe stato troppo Troppo forte Con una spia Come Mirko Capocchiari È stato un grande piacere Ti lascerò Una microspia Dannazione Dannazione Dopo controlliamo tutto Fede Grazie mille Veramente È stato un grande piacere Fare questa chiacchierata Spero che sia La prima di una lunghissima serie È stato un gran piacere Dai Allora Adesso noi risponderemo A qualche domanda Ma prima chiudo la trasmissione Per chi ha visto Indifferita Con Quindi con l'invito Guardateci in diretta Ogni tanto Perché insomma Voglio dire Poi ci sono le domande Risposte Si chiacchiera un po' di più E di solito Le cose veramente folli Inaccettabili Terribili Emergono nel post cogitata Quindi preparati Mucchiamo la quarta parete Siamo veri Esatto Grazie mille a tutti Per gli abbonamenti Per Per seguire Per aver messo Mi piace Se siete in live Quindi non uscite Perché adesso Un po' di domande e risposte A chi è indifferita Invece Grazie per aver seguito Condividete la puntata Seguite il lavoro di Mirko Che è veramente prezioso E ragazzi Incrociamo le dita Che le cose vadano Per il meglio E noi cerchiamo Di fare il nostro Cioè fare della buona informazione Di buoni ragionamenti Grazie Mirko Grazie a te Alla prossima Grazie a te